La microirrigazione in viticoltura oggi ha un ruolo sempre più importante e fondamentale nella gestione del vigneto. Perché? Perché è il viatico, il mezzo con la quale andiamo a controllare e a integrare uno dei fattori della produzione principale che è l'acqua. Soprattutto con le recenti annate che abbiamo vissute, da un lato se vogliamo 2014 con un'esuberanza, ma 2015 ha riportato in evidenza come la presenza e il verificarsi di stagionalità particolarmente difficili e l'esigenza di interventi di irrigazione e di restituzione idrica siano fondamentali appunto per mantenere in equilibrio produttivo il nostro sistema vigneto. Alcune considerazioni di carattere generale. Noi abbiamo un'interazione nel nostro sistema vigneto dove condizioni del terreno, condizioni di fisiologia vegetale e fisica vegetale, apparati radicali e quindi tipologie scelte dei portainnesti, densità di impianto e altre forme che differenziano appunto i diversi vigneti vanno a integrarsi con le caratteristiche del terreno e i fattori ambientali. L'irrigazione e l'afferta irrigazione cosa mi permettono di fare? Mi permettono di controllare e di mantenere uno stato ottimale di sviluppo e andare a indirizzare e a mirare un obiettivo produttivo. Fino a qualche anno fa un'indicazione che normalmente l'impianto di irrigazione veniva considerato come una tecnica pura di forzatura oggi invece è sempre più vista come una tecnica che va a coadiuvare e a completare e a correggere eventuali mancanze che ci sono di natura ambientale e sono sempre più frequenti che possono nella maggior parte dei casi andare a inficiare altre operazioni e interventi che vengono messi in campo e messi in atto per appunto ottenere questo risultato e andare a mirare il nostro obiettivo eneologico. Qual è appunto l'obiettivo del sistema di microirrigazione? Oggi per microirrigazione diamo per assodato che la tecnica preferenziale sia l'irrigazione a goccia dove con un sistema appunto di erogazione puntuale localizzato come vediamo dalle immagini in due opzioni o con ala gocciolante superficiale o con ala gocciolante interrata andiamo a localizzare e a mirare la restituzione idrica direttamente nella zona di assorbimento e di interesse. La scelta fra queste due tipologie è solitamente legata a caratteristiche e a situazioni pedologiche e ambientali in quanto sicuramente la tecnologia dell'ala gocciolante interrata presenta dei vantaggi in quanto andiamo a liberare da un ulteriore eventuale ostacolo che potrebbe essere appunto la presenza della tubazione in esterno dell'ala gocciolante appesa o posata a terra andiamo a liberare il vigneto e a renderlo più agevole alle operazioni meccaniche andiamo ad avvicinarsi ancora di più se vogliamo al punto di assorbimento, al punto di utilizzo dell'acqua e degli elementi nutritivi e andiamo anche dal punto di vista ambientale a inserire un aspetto migliorativo che è appunto quello della riduzione dell'evaporazione e delle perdite d'acqua. La scelta invece per l'ala gocciolante appesa rimane se vogliamo per lo più ormai una tecnica legata a installazioni in luoghi e situazioni limite dove le condizioni pedologiche ci impediscono di andare a posare le ali gocciolanti appunto al di sotto della superficie del terreno. Vantaggi in generale della microirrigazione sono appunto come sistema a largo spettro una riduzione delle potenze installate rispetto alle tecniche tradizionali di irrigazione quindi un uso rispettoso della risorsa idrica andandola a localizzare effettivamente dove ce n'è il reale utilizzo appunto a mezzo di una distribuzione localizzata e quindi poi tutto l'insieme dell'assenza di perdita ed aumento dell'efficienza dei sistemi. L'irrigazione, la subirrigazione in particolare come abbiamo già detto va a incentivare ancora di più questi aspetti ambientali e di efficienza tecnica del sistema. Qui vediamo un'applicazione, un'installazione dove si vede molto bene l'effetto di localizzazione anche in un vigneto diciamo giovane come andiamo e riusciamo a soddisfare in maniera puntuale e localizzata la pianta dal punto di vista del rifornimento idrico ed eventualmente in abbinamento anche alla tecnica di fertilizzazione anche il soddisfacimento nutrizionale. In termini generali adesso farò vedere una breve sequenza di cosa succede o di cosa succederebbe nella situazione tipo presentando cosa si verifica a livello degli apparati radicali durante l'arco della stagione e in funzione e al variare dello stadio fenologico e dello stadio vegetativo della pianta. Vediamo una scala colorimetrica a sinistra dello schermo che mi individua lo stato appunto di contenimento idrico all'interno del terreno. Vediamo che a mano a mano che progrediamo con lo stadio vegetativo abbiamo la pianta che comincia ad assorbire acqua normalmente accumulata nel terreno in una normale stagione invernale dove il terreno si è ricaricato della sua riserva utile abbiamo la pianta comincia a utilizzare l'acqua disponibile nel terreno progredendo la pianta appunto avanza nello suo stadio fenologico e andiamo ad assorbire la pianta continua ad assorbire acqua dallo strato esplorato dalle radici. Questo fenomeno a mano a mano che andiamo avanti vediamo come la dotazione idrica all'interno dei terreni cala normalmente nella tradizione comune l'epoca di periodo qui evidenziato il periodo di luglio con un inizio dell'irrigazione e un inizio del reintegro dei fabbisogni idrici appunto della pianta ovviamente sempre legata in funzione agli obiettivi enologici che voglio ottenere. Arriviamo alla fase di raccolta dove normalmente si tende a ridurre la quantità di apporti idrici per ritornare appunto a ripristinare se non ci sono interventi di natura appunto ambientale e ripristini naturali andiamo a continuare a rifornire la pianta per farle completare il ciclo di sviluppo vegetativo e andare a predisporla in maniera opportuna alla ripresa vegetativa. A un certo punto si spera intervengano anche le piogge ad aiutarci in questo. Questo individua sostanzialmente quello che potrebbe essere o dovrebbe essere la situazione ideale che si dovrebbe creare. L'ambiente però ci sta facendo degli scherzetti negli ultimi anni e ha dimostrato come primavere siccitosi quindi si sono presentate sempre più di frequente dove ci ritroviamo anche in questi periodi in alcune zone con autunni sostanzialmente ancora siccitosi. Questo per dire che il sistema di irrigazione non deve essere più visto semplicemente come un sistema di integrazione nelle fasi centrali del ciclo vegetativo ma bensì diventa un partner fondamentale anche nelle prime fasi di sviluppo, nelle fasi iniziali della stagione vegetativa nell'andare a integrare e intervenire in quelle fasi dove indicativamente noi possiamo già cominciare a avere noi abbiamo un'elevata richiesta idrica da parte della pianta e molto spesso queste fasi vengono trascurate da parte del viticoltore perché normalmente e nella tradizione non interessate dalla tecnica dell'irrigazione e quindi dal rifornimento idrico. Oggi una gestione oculata dell'impianto di irrigazione dovrebbe prevedere anche sistemi di monitoraggio dell'umidità del terreno per valutare in maniera attenta e puntuale le condizioni pedologiche e lo stato di rifornimento idrico che la pianta si trova a vivere durante tutto lo stadio, durante tutto il processo vegetativo. Questo per evitare e non incorrere in errori che possono inficiare tutte le operazioni e tutti gli sforzi che abbiamo messo in campo appunto con lo scopo di avere un determinato risultato che talvolta viene sovvertito appunto anche da una trascuratezza nella valutazione degli stress idrici. Molto spesso c'è la tendenza ad intervenire e ancora molto fondata la cultura di intervenire con l'irrigazione di soccorso in realtà sempre più deve diventare una tecnica sinergica nella normale conduzione del vigneto. Quindi alla fine la domanda del quando e quanto irrigare può essere soddisfatta facendosi un'analisi su alcuni aspetti che sono quale tipologia e quale scelta varietale ho fatto, che esigenze ha la mia cultivar, il mio portainnesto, che strato attivo va a esplorare e quindi a quale profondità devo andare a irrigare, fino a che punto devo soddisfare le radici. Ho una forma di allevamento espansa che quindi mi fa consumare e mi richiede molta acqua o contengo e quindi posso lavorare anche oggi si parla molto di stress idrico controllato. Quali sono le caratteristiche chimico-fisiche del terreno? Qual è la sua capacità di ritenzione idrica? Nell'irrigazione per soccorso si tende a intervenire talvolta con volumi esagerati e quindi incorrere in fenomeni di percolazione e perdita d'acqua. Questo vuol dire spreco di energia e talvolta anche asportazione di elementi nutritivi. Qual è il nostro obiettivo enologico? Voglio, devo produrre, devo puntare a una produzione di tipo quantitativo o voglio e cerco qualche particolare risultato qualitativo? Appunto, come dicevo, si parla di gestione dell'irrigazione sullo stress idrico controllato che può essere gestito in varie fasi fenologiche appunto per accentuare e individuare alcune caratteristiche peculiari e far prevalere alcune appunto caratteristiche qualitative ai nostri vini, alle nostre uve. Chiedo scusa. Questo perché? Perché tutte queste domande e tutte queste valutazioni da fare? Per evitare che cosa? Per preservare anche una risorsa ambientale particolarmente difficile talvolta da ottenere nelle aree viticole che è l'acqua. Tutta questa valutazione mi permette di andare a fare una discriminazione tra che cosa? Tra il fatto di lavorare con erogazioni e irrigazioni corrette e quindi evitare fenomeni di scarsa irrigazione o di eccessiva irrigazione che comportano di spendi energetici e di risorse talvolta appunto anche fortemente limitate. E con questo ho concluso. Grazie. Grazie.